No, è una posa che assumo. C'è la telecamera, quindi va? No, ma stai registrando? Sì! Ma mi stai riprendendo? Sì! Eh già! Ciao! Va bene, va bene! Va bene, ok! Ema, mi stai riprendendo! Sì, va un po'. Ma se lo sei lì? No, no, è che ho un problema al braccio. Pensavo un po' se l'ha fatto prova. Ma tu sì che... Eh! Anch'io! Sappiate che sto filmando? Veramente. Hai ripreso? Sì, ma non te lo farò vedere, brava. Ma dove devo guardare? Oh là! No, devi guardare. No, è quello che fa filmare. Per prendere tutto. Ma stai facendo un video? No!